Il day after l'entrata in vigore del Super Green Pass e della mascherina FFP2 obbligatoria sui mezzi pubblici, anche quelli urbani, non ha lasciato indifferente i lavoratori di questo settore che si dicono in difficoltà per quanto riguarda il controllo proprio del certificato verde rafforzato. Il controllo del Super Green Pass e che bisogna indossare la mascherina FFP2 è stato delegato ai verificatori dei titoli di viaggio. Attualmente il servizio urbano di Pescara ne ha in forza, non ricordo bene, se 4 o 5. Va da sé che per controllare una mole di corse giornaliere che in un periodo invernale, scolastico, si attestano a circa 900 corse più le corse suppletive risulta essere un numero abbastanza esiguo per espletare un controllo capillare relativo al quadro normativo. Ci pare di capire che in una corsa classica potrebbero salire delle persone che non hanno Green Pass e non essere controllate. Sì, perché questo controllo per i primi giorni, per il primo giorno, è stato espletato prioritariamente alla partenza, proprio qui dal terminal. Va da sé che comunque in itinere potrebbero comunque salire delle persone che sono sprovviste del Green Pass oppure della mascherina FFP2 e spesso come personale viaggiante, come autisti, ci troviamo anche in difficoltà. E l'espandersi a macchia d'olio della variante Omicron sicuramente creerà dei problemi anche a questo settore. In tanti autisti e controllori che in questi giorni non sono al lavoro potrebbero verificarsi delle soppressioni e delle corse. Sì, si potrebbe verificare tranquillamente una situazione del genere. Molte corse attualmente vengono espletate soprattutto grazie al personale viaggiante che si sta prestando a una mole di straordinari veramente alta. In questo caso la CGL cosa chiede? Noi chiediamo delle disposizioni aziendali su come comportarci perché non avere delle disposizioni da applicare nell'espletamento del servizio ci pone in una condizione veramente di difficoltà.